Assessore di Biase, torna a Ciocofestival a Chieti, diceva in conferenza stampa l'obiettivo è quello di portare gente a Chieti da fuori città. Certo, l'obiettivo principale e finale è quello, è quello di rivitalizzare questa città, ma penso sia un fatto puramente numerico, cioè non si può vivere o sperare di vivere in maniera autarchica, anche solo di popolazione propria. L'obiettivo è quello di ridare a Chieti il ruolo che merita, quello di una città capoluogo che ha delle attrattive culturali da visitare e anche delle grandi attrattive commerciali. E ridare quindi, dando a Chieti questo ruolo da protagonista, vuol dire attrarre numericamente il numero più alto di persone che vengono da fuori la città, ma noi ci auguriamo non solo da fuori dalla provincia, ma anche da fuori l'Abruzzo. Noi non vogliamo piegarci alla crisi economica, i comuni in questo momento stanno soffrendo, ma stiamo dando tutto il supporto tecnico e logistico a chi ce lo chiede. Abbiamo pianificato una serie di manifestazioni che iniziano col Cioco Festival, continueranno con lo Street Food, col Teatro Winter Festival. Noi metteremo a disposizione tutta la parte antica della città da far visitare, in maniera che finalmente si vedrà la sintesi dei vari settori di questa città, commercio, manifestazioni, cultura e turismo.